Presidente, mi rivolgo, signor Presidente, a lei, agli onorevoli deputati e nell'interpellanza all'ordine del giorno, l'onorevole Locatelli ed altri deputati propugnano l'illegittimità dei provvedimenti prefettizi di annullamento di ufficio della trascrizione dei matrimoni celebrati all'estero tra persone dello stesso sesso, nonché della circolare in data 7 ottobre scorso con cui il Ministro dell'Interno ha dato indicazione ai prefetti sull'esercizio del relativo potere. Gli interpellanti basano tale orientamento sull'assunto che la cancellazione degli atti indebitamente trascritti nei registri di Stato civile sia una funzione riservata esclusivamente all'autorità giudiziaria e non all'autorità amministrativa. A sostegno della loro posizione, come ha illustrato l'onorevole Locatelli, si cita la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine nei confronti del Prefetto di Udine, nella quale l'organo inquirente, pur riconoscendo l'insussistenza dell'elemento soggettivo dei reati ipotizzati al carico del Prefetto, ha ritenuto non conforme alla legge l'annullamento in via gerarchica da costui disposto delle trascrizioni di matrimonio same-sex celebrati all'estero. Debo immediatamente precisare che tale richiesta di archiviazione non può ovviamente in alcun modo fare Stato, intanto perché né essa né l'eventuale provvedimento di archiviazione del GIP sono idonei ad acquisire autorità di cosa giudicata dal punto di vista appunto tecnico e del nostro ordinamento e poi perché si tratta di un atto posto in essere da un organo che comunque non ha una competenza specifica, non ha giurisdizione in questa materia e per di più è un atto che viene formato in assenza del necessario contraddittorio. Venendo però al merito della questione rilevo come la normativa vigente attribuisca inequivocabilmente la funzione di Stato civile alla competenza dello Stato ed è questo il punto. Oggi la normativa attuale prevede che le funzioni di Stato civile vengano svolte dallo Stato che lo esercita, questa competenza la esercita in ambito territoriale attraverso il Sindaco quale ufficiale di Governo e quindi come organo di amministrazione indiretta dello Stato medesimo. In tale veste il Sindaco è tenuto ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica numero 396 del 2000 ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell'Interno nella sua qualità di organo avente la titolarità primaria della materia. Parimenti sintomatico dell'assenza di un'autonoma sfera di competenza del Sindaco rispetto ai servizi di competenza statale è il comma successivo della medesima disposizione a mente del quale la vigilanza sugli uffici dello Stato civile spetta al Prefetto. In una relazione del tipo di quella appena evidenziata risulta quindi del tutto appropriato l'esercizio da parte del Prefetto del potere di annullamento che è tipica manifestazione di una sovraordinazione gerarchica e concreta e la manifestazione di una sovraordinazione gerarchica e concreta è un rimedio di ordine amministrativo impregiudicata la possibilità di ricorrere a strumenti di ordine giudiziario. Quindi il Prefetto esercita un proprio potere proprio in virtù delle norme che ho cercato di illustrare e non può ricorrere invece non esiste una via giudiziaria. Al contrario sarebbe contrastante con la natura statale della funzione di Stato civile e con la sua titolarità in capo al Ministero dell'Interno prescrivere che quest'ultimo e per esso il Prefetto debba rivolgersi all'autorità giudiziaria al pari di un qualunque terzo interessato per rimuovere gli effetti di atti posti in essere in violazione di una sua specie precisa direttiva da parte di chi, come il Sindaco, si trova in posizione di subordinazione. Del resto, relativamente alle analoghe fatti specie inerenti all'adozione di provvedimenti di annullamento disposti dai prefetti nei confronti di ordinanze sindacali di sicurezza urbana, è stata affermata anche da parte di autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato, e cito in particolare la sentenza numero 3076 del 2008, la piena legittimità dell'intervento del Prefetto proprio in ragione della pertinenza statale della materia. In coerenza con queste specifiche competenze e con il loro articolato esercizio, il Ministro dell'Interno, con la circolare del 7 ottobre scorso, ha sensibilizzato quindi i Prefetti a rivolgere un formale invito ai Sindaci sia al ritiro di eventuali direttive emanate in materia di trascrizione dei matrimoni di persone dello stesso sesso celebrati all'estero, sia la cancellazione delle conseguenti trascrizioni qualora effettuate, proprio perché in contrasto con la normativa statale interna nostra e quindi anche non solo con la norma primaria ma anche con le circolari. Alla luce delle argomentazioni appena esposte ritengo che allo Stato non sussistano i presupposti né per il ritiro della predetta circolare ministeriale né per la cessazione dell'esercizio dei poteri di annullamento dei Prefetti. Comunico inoltre che non rientra nei programmi del Governo l'adozione di alcuna iniziativa normativa nel senso indicato dagli onorevoli interpellanti. Ringrazio per l'attenzione.